segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te no come lei perché non le nascondo che non è facile trovare persone che vogliono venire a rivivere quel lutto che vogliono venire in televisione per esempio a chiedere giustizia sono poche come lei si sono poche perché ci sono persone che si sono arrese davanti a quello che è la politica al fatto di non aver dimostrato nemmeno empatia nel periodo successivo sapete quante volte abbiamo chiesto di incontrare anche il presidente della repubblica ma è una risposta arrivata secondo voi il presidente attilio fontana mi ha chiesto di incontrare i parenti delle vittime secondo voi è mai chiesto scusa secondo voi ha mai realizzato il fatto di dire forse ho sbagliato scusatemi voglio incontrare gli occhi di chi è sopravvissuto perché tra di noi ci sono tante persone che hanno avuto il covid io mi rifaccio anche mia mamma due mesi bloccata a casa con sintomi che non ha curato nessuno che sono rimasti lì bloccati i sopravvissuti del covid nessuno ha chiesto scusa hanno sempre detto dalla regione che la colpa era del governo dal governo che fosse colpa della regione io ho incontrato attilio fontana in un'occasione informale in quanto sono anche consigliera del movimento italiano farmacisti collaboratori e ho chiesto al presidente fontana gli ho chiesto personalmente di chi fu di chi fu la decisione di non creare la zona rossa lui mi guardò e mi disse ma lo sanno tutti non dipendeva da noi dipendeva dal governo e quindi questo tergiversare questo fatto di non prendersi le proprie responsabilità è la cosa che allora è male cristina ora io